Con il numero 64, Fintinato Flora. Con il numero 61, Lorenzo Gacciosino. Con il numero 59, Giampietto Leccheglio. Con il numero 63, Gino Novo. Con il numero 64, la scuola del Sorte. Con il numero 60, Ida Ina Paelli. Con il numero 61, Fintinato Flora. Con il numero 64, Mario Iriene. Con il numero 65, Giovanna Gattabelli. Con il numero 68, Gianfini Girmato. Con il numero 81, Lorenzo Montemore. Con il numero 69, Capitano, Giovanna D'Arenzo. Anneri, Gattabelli. Viva il Sottotное Massimo Sfetao. Viva il Sottotное Massimo Sfetao. E voto assistenza di Vidalgo Angélio, accompagnatore Rousseta Abionari. Altrivedi Restito, Antonio Petrillo. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. , a tutti. Grazie a tutti. , 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 a tutti.